Questa è la collezione Extra Donuts Trial, composta da una pettorina Stepin e da un guinzaglio. La pettorina Stepin consente di essere indossata dal cane in maniera veloce. Basta inserire le due zampe in questi due fori e chiudere la pettorina sulla schiena in questa maniera. È realizzata in neoprene morbido e traspirante. Il guinzaglio è lungo 140 cm ed è alto 2,5 cm, in pugnatura imbottita per il massimo comfort. Trovi tutto sul nostro store online www.piggypet.it